Il 2019 è stato uno degli anni più caldi di sempre, così come il giugno scorso. Ne abbiamo parlato con Vittorio Marzio di metovalnure.it per scoprire classifiche, ma soprattutto dati e andamenti climatici locali e del pianeta. Stiamo registrando quello che è il trend ormai degli ultimi dieci anni, dove le temperature aumentano costantemente di anno in anno e di mese in mese. Difatti proprio il 2019 è il quarto anno più caldo di sempre, registrando una temperatura di più un grado sopra la media di riferimento trentennale con un solo mese con anomalia negativa, che è stato maggio, che ha registrato circa due gradi meno. Quindi se avessimo avuto un maggio normale senza questi due gradi meno sarebbe stato l'anno più caldo di sempre, il 2019. Un fenomeno non solo locale o nazionale, ma che coinvolge il mondo intero. Negli ultimi dieci anni più caldi di sempre si registrano come il primo anno più caldo di sempre a livello nazionale nel 2018, il secondo nel 2015, il terzo nel 2014, il quarto nel 2019, il quinto nel 2016. Quindi gli anni più caldi di sempre dal 1900 a oggi sono tutti dal 2010 in poi. Questo comporta un'estremizzazione del clima, quindi temperature dei mali che aumentano degli oceani, ghiacciai e ghiacci artici che si sciolgono, estremizzazione del clima nel senso che più piogge e più periodi siccitosi. Aumento delle temperature, ma anche delle precipitazioni. In alcuni mesi, come agosto, settembre, ottobre e novembre scorsi, le precipitazioni sono state superiori anche del 30-40%, rendono sempre più evidente il fenomeno della tropicalizzazione del clima. Le stati che sono più siccitose, tranne alcuni episodi temporaleschi, le primavere e gli autunni con molte più piogge che registriamo nel corso di questi mesi, di fatti veniamo da un autunno piovosissimo, la media di Piacenza si attesta su 750 mm annui, ha superato i 1000 mm annui, tutti concentrati e registrati negli ultimi tre mesi.